Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Nella puntata precedente abbiamo proprio approfondito questo titolo mariano sotto l'aspetto della consolazione anche dando un'occhiata approfondita alla Santa Messa Mariana in onore della Madonna Maria Vergine Madre della Consolazione. Avevamo ancora da occuparci e lo faremo subito se Dio vuole oggi di un'altra Messa in onore della Madonna che celebra particolarmente questo titolo che è Maria Vergine e Madre Regina e Madre della Misericordia. Perché? Perché la Misericordia è un'attività del tutto peculiare diciamo così che attiene alla consolazione interiore e che è quella particolare consolazione che dà Maria Santissima a chi ha bisogno di compassione essendosi ritrovati in mezzo a un mare di guai, soprattutto in mezzo ai guai del peccato. Io penso che riflettere bene su questo titolo possa regare estremo aggiovamento anche alla nostra vita interiore perché fare bene gli avvocati è sempre una bella cosa. Adesso non voglio gettare acqua ai miei antichi mulini però il compito dell'avvocato se uno lo guardasse nella nobiltà della funzione è certamente più bello e più edificante di quello del pubblico ministero. Perché il pubblico ministero punta un pochino per carità i reati vanno perseguiti, adesso sto parlando non applicando queste cose all'ordinamento giuridico ma facendo un pochino un'astrazione. È più bello difendere che accusare, che puntare il dito. Soprattutto i nostri rapporti nei confronti del prossimo, se vogliamo essere fedeli al Vangelo, Gesù non vuole che puntiamo mai il dito, non vuole che giudichiamo, non vuole che condanniamo, non vuole neanche che accusiamo questo mai. Cioè nemmeno qualora chi ci sta dinanzi fosse realmente colpevole di qualcosa. Dobbiamo sempre ricordare queste cose, figlioli miei cari, ascoltatori carissimi, io credo che sia importante focalizzarle con attenzione. Pensiamo all'episodio dell'adultera evangelico, cioè quella donna era stata sorpresa in flagrante adulterio, quindi non è che non l'aveva fatto, l'aveva fatto. Eppure Gesù ne ha preso le difese, attenzione, non ha preso le difese del peccato che questa aveva fatto, ma ha preso le difese della persona e ha bandito ogni possibilità di assumere atteggiamenti intransigenti verso il peccatore. Questo non significa evidentemente, umanamente parlando, che non debba esistere tra noi uomini la giustizia umana, il carcere per i delinquenti o cose di questo genere. Però occorre sempre avere nel cuore una grande bontà, una grande cautela, una grande misericordia, nel senso che puntare il dito, un conto è l'oggettività delle cose. Se una persona che vive in un consorzio civile ha commesso un reato, è un grave reato, evidentemente la giustizia umana gli darà la pena che deve scontare, è anche molto rigorosa se è il caso. Però c'è un piano differente. Il piano differente, che è il piano del cuore, consiste nell'avere pietà anche di quel criminale, ma anche se quello magari neanche la cerca la pietà. Ecco, perché questa è proprio una cosa eminentemente mariana, una cosa eminentemente materna. Una mamma che ha un figlio debosciato, disgraziato, sciagurato, che magari non vuole manco vedere scritto al muro, manco la mamma, proprio il peggio dei peggio, continua a soffrire per quel figlio, continua in qualche modo a volere bene a quel figlio, cioè nel senso che nell'anima, nella vita anche del peggior criminale di questo mondo, c'è un'anima, c'è un'anima creata da Dio. Non solo, c'è una storia. La storia che noi ci portiamo dietro non funge mai, come dire, da processo di giustificazione del male che commettiamo. Questo sia ben chiaro, d'accordo? Mai. Perché noi siamo comunque persone libere e responsabili dei nostri atti. Per cui un atto buono è degno di un premio, in questa e nell'altra vita, e un atto cattivo è degno di una pena, in questa e nell'altra vita. Questo non ci piove, d'accordo? Però chi di noi può fare un giudizio perfetto su tutta la realtà complessiva di una persona? Chi di noi può stabilire in un atto cattivo, ecco perché Gesù ha detto che chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra, e chi di noi può stabilire, diciamo, quella donna è commessa adulterio, è una pervertita, quindi è una schifosa? O magari, se tu riesci a vedere la vita, la situazione matrimoniale, le educazioni, i contesti, ripeto, fermare stando che l'atto è e rimane disordinato, d'accordo? Perché non ci sono facili giustificazioni, però chi è che può conoscere perfettamente la situazione interiore di quella persona? Solo Dio. Ecco perché soltanto Dio è colui che giudica, e non vuole che questo compito sia svolto da nessun altro, se non dai magistrati civili ed anche ecclesiastici, per delle circostanze e delle situazioni oggettive e concrete che si vengono a porre in essere e che necessitano comunque un esercizio della giustizia oggettiva per il bene di chi sbaglia e per la tutela di coloro che di questi sbagli ne sono vittime. Quindi, con questo cosa vogliamo dire? Cioè, avere un cuore, come dire, incattivito, anche nei confronti delle persone cattive, avere un cuore duro, rigido, spietato, non è di per sé una cosa né bella né buona, capite? Né buona, perché ci deve essere sempre uno spazio di misericordia, ci deve essere una preghiera da parte del mattino che siamo cristiani, non un puntare il dito, una preghiera, perché quella persona si converta, riconosca i suoi errori, per carità, cioè non dobbiamo avere timore che nessuno sfugge, si può sfuggire dalla giustizia umana, anche questi giorni sono dei fatti di cronaca, ecco, si può sfuggire in tutto e in parte la giustizia umana, ma la giustizia divina non si sfugge, d'accordo? Ecco, però lo vedremo, cioè questo è il cuore, il cuore di Maria Santissima, anche il cuore di Gesù, anche quello che Lui vuole da noi, lui vuole che noi chiediamo e desideriamo per il prossimo misericordia, non che invochiamo la giustizia, anche se giustizia è già giusto che sia fatto, d'accordo? Perché come dice Gesù nel Vangelo, con la misura con cui tu misuri, sarà misurata a te in cambio, tu sei sicuro davanti a Dio che ti puoi presentare al suo cospetto, al cospetto di colui che tutto conosce, tutti quanti i tuoi pensieri, tutte quante le tue azioni, tutte quante le tue parole, così, tranquillo, io sono in te gerri, io non ho fatto niente di male, io sono buono e non c'ho niente da nascondere, sei proprio sicuro, insomma, d'accordo? Sei proprio sicuro? Allora, noi dobbiamo sempre avere un cuore buono, d'accordo? Buono non vuol dire un cuore ingenuo, un cuore stupido, ripeto, perché ho imparato a specificare bene, perché è molto facile che alcuni discorsi siano equivocati, ecco, l'esperienza mi ha insegnato che è meglio dire una parola in più di precisazione, ecco, piuttosto che dirne due in meno, anche per la foga a volte nel dire tante cose, no? Quindi non si tratta di negare nessuna responsabilità e nessuna cosa di questo genere, si tratta però di dare il primato alla misericordia, che è la stessa cosa che vorremmo avere noi, d'accordo? E se una persona è proprio cattiva e si è incattivita, noi dobbiamo pensare che maggiormente c'è bisogno ancora di misericordia. Io personalmente, questa è una mia idea personale, è un'idea che emerge anche dalla lettura di alcuni testi, diciamo così, mariani, alcuni che raccontano la sua vita, per esempio c'è la mistica città di Dio di Maria da Greta, Maria da Greta è una venerabile, insomma, quindi si può leggere con una certa, come dire, tranquillità d'animo, che mostrano un cuore di Maria proprio, altro che avvocata, di un materno inimmaginabile per noi esseri umani, d'accordo? Cioè di una volontà, come dire, di perdono, di misericordia per il suo figlio disgraziato, immensa. Certo, anche tutta quanta la misericordia di Maria Santissima pone il pericolo di sfracellarsi contro l'indurimento del cuore umano, certamente, contro la chiusura radicale. Noi vediamo anche nelle cronache giudiziarie, per esempio, di brutte cose, di terroristi o di mafiosi che fino alla fine rimangono tetragoni, insomma, chiusi senza dare nessun scenno di pentimento esterno. Boh, chi lo sa che fine fanno, insomma, questi qui, no? Comunque, ecco, cioè, se quello che è esterno corrisponde all'interno, c'è da pensare, insomma, che a meno che il punto di morte non si sia verificato qualche, speriamo, miracolo, insomma, ci sia qualche problema, no? Ecco, però è proprio quella condizione che oggettivamente queste cose manifestano, quindi quella spavalderia, anche quella propostinazione, cioè nel dire, cioè, non mi pento neanche di aver fatto un male così grande, insomma, in giro, che, come dire, visibilizza a livello esteriore quella che è l'unica condizione per cui andiamo a fare una brutta fine. Possiamo andare a fare una brutta fine rendendo mano la croce di Cristo, il sangue di Cristo, la misericordia di Gesù Cristo e anche quel cuore pieno di amore e di misericordia che è la Maria Santissima e che è un'attuazione peculiare del suo ministero di consolazione che a sua volta è un'attuazione peculiare ecco, del suo essere la nostra avvocata, capite? Cioè, l'avvocato, pensiamo anche un'altra cosa, no? Io, insomma, parlo di queste cose anche perché a suo tempo mi trovai a fare diversi discorsi, se dovessi fare avvocato, per esempio, un avvocato penalista, è bene, insomma, riflettere su queste cose, cioè, l'avvocato penalista, chi difende? Difende l'innocente e ingiustamente accusato, no? Questo speriamo che si tratti, adesso non ho avuto grandi modi di approfondire a livello empirico le vicende giudiziarie, però, insomma, uno che sia accusato del tutto ingiustamente, presumo, ecco, anche avvocato praticante da molti anni potrebbe smentirmi, che sia una minoranza, diciamo così, rispetto alla totalità delle cause penali, no? Quasi sempre gli avvocati penalisti, ahimè, si troveranno a difendere i colpevoli, ma anche un colpevole ha diritto ad essere difeso, ecco, è chiaro che difendere un colpevole, ci sono modi e modi per difendere un colpevole, no? Quindi qui poi ci sono stili diversi, chiaramente, di fare l'avvocato, ma il principio è che anche una persona che comunque si è macchiata a diritto ad essere difeso, perché anche, cioè, se uno volesse proprio interpretare con un canone, diciamo così, alla Santa Alfonso Maria dei Liguori, che prima di fare il sacerdote faceva l'avvocato e smise di farlo proprio per una grossa delusione giudiziaria, no? È chiaro che se una persona veramente ne ha fatte tante, la linea difensiva sarà cercare, come dire, di fargli possibilmente mitigare la pena, di individuare qualche circostanza attenuante, si chiama così anche nel codice penale, no? Se esiste, non chiaramente di portarlo completamente alla soluzione, perché questo sarebbe, come dire, contrario alla giustizia, no? Se uno volesse fare l'avvocato alla Santa Alfonso Maria dei Liguori, è chiaro che poi ci sono modi e modi di interpretare questa professione, ma il principio è che anche il colpevole ha diritto alla difesa e può e deve, in parte, essere difeso. Ora, noi abbiamo anche un altro principio che dobbiamo sempre ricordare. Gesù ci ha detto nel Vangelo, con la misura con cui misurate, sarà misurata a voi in cambio. Ci ha raccontato la parabola del servo spietato, d'accordo? Quindi dobbiamo fare molta attenzione. La Madonna, per esempio, ha così tanta misericordia, perché la Madonna, con la luce che ha, sa che un peccatore, quindi una persona che fa il male, certamente che distrugge il prossimo, spesso e volentieri, e anche drammaticamente, ma purtroppo facendo il male distrugge anzitutto se stesso, cioè il più grande infelice della faccia della terra, è il più grande peccatore. Perché quanto male sta una persona che fa il male, anche se apparentemente fa lo splendido, fa lo spavaldo, insomma, fa finta di godersi la vita e tutte queste cose qui, ma quello c'è il diavolo dentro, c'è la morte dentro, d'accordo? Non pensiamo che quelli che hanno il diavolo siano gli indemoniati. Io ho sempre detto che la forma più grave, come dire, tra virgolette, certamente di possessione diabolica, virgolettata, perché possessione diabolica si usa per l'azione straordinaria del demonio, ma io ritengo che sia molto più da temere, la possessione diabolica tra virgolette, cioè quella che vive il peccatore, che si ritrova con un'anima infarcita di male, impastata di male, e che del male ne sente gli effetti nefasti, d'accordo? Molto peggio questo di chi subisce una possessione che in certi momenti perde la coscienza e fa delle cose da matto, ma non è neanche lui, no? Ecco, quindi quest'occhio di misericordia noi dovremmo averlo universale. quindi anche verso il peccatore, come dire, indurito, anche verso il peccatore impenitente, d'accordo? Perché finché non si esala l'ultimo respiro c'è possibilità, ecco, di... Le considerazioni, sapete, io ho fatto tante catechesi negli anni addietro, anche sulla dannazione, sull'inferno, Quando si pensa a questo, deve venirci... C'è un modo salutare anche, è molto cattolico a mio avviso, di pensare all'inferno. L'inferno deve farti venire, come dire, un'enorme tristezza e compassione per chi lo rischia. Perché davvero, insomma, se una persona fino alla fine chiude le porte al nostro Signore, L'inferno non è una favola, esiste, purtroppo, ed è una realtà assolutamente devastante, tragica, d'accordo? La Madonna Fatima ci ha fatto pregare nel Rosario, preservaci dal fuoco dell'inferno, cioè Dio ce ne scampi e liberi, cioè... L'eterna dannazione è qualche cosa che solo pensarla fa agghiacciare il sangue, insomma, no? Fa accapponare la pelle. E pensare che questo, purtroppo, è solo, perché così è, solo esito di una volontà tetragona, impenitente, fino alla fine, cioè che a me sinceramente questa cosa fa pensare e fa anche un po' paura. Cioè, dico, signore, scampami da una cosa di questo genere, perché, cioè, l'ostinazione di un essere umano che rischia questo qui e che poi se lo trova davanti, a me è una cosa che veramente lascia pensare, no? E siccome tutti quelli che purtroppo viaggiano verso l'inferno sono come quei matti, insomma, che si mettessero ad andare a tutto gas su un'autostrada, ma contro mano, quindi senza rendersi conto che stanno andando contro mano e che quindi si andranno a splacellare sicuramente, deve sempre prevalere un cuore di misericordia, cioè un'anima mariana, a mio avviso, autenticamente mariana, è un'anima veramente buona. Ripeto, buono non significa buonista. Non voglio ripetere un'altra volta, ho già fatto abbastanza spiegazioni nel prologo, no? Ma è caratterizzata da questa grande bontà, da questo occhio di compassione, da questa azione appunto di misericordia verso il peccatore. Allora, volevo leggere con voi alcuni passaggi, come sempre, della messa in onore di Maria Regina, Vergine Regina e Madre della Misericordia, a partire dall'antifona d'ingresso, che è bellissima. Io queste messe, guardate, mi avviso, io ogni tanto scherzando ho detto se la riforma liturgica fosse stata fatta soltanto per dare alla luce queste messe in onore della Madonna, sarebbe stata fatta bene, perché sono veramente molto molto belle. L'antifona d'ingresso dice, salve regina di misericordia, attenzione, no? L'abbiamo visto già la volta scorsa, il termine avvocata dove lo troviamo? dice, fa tanti problemi. Lo troviamo nel salve regina. E il termine madre di misericordia? Ricordia! E infatti l'antifona d'ingresso della messa in onore di Maria Regina e Madre di Misericordia comincia con le parole, salve regina di misericordia. Dire regina di misericordia, bellissimo, no? Voi sapete che il re è uno che sta in alto, lo direi che non c'è nessuno che c'è tanta misericordia quanto la Madonna, ovviamente, eccettuando l'autore della misericordia che era altissimo e in particolare il suo figlio fatto uomo nel suo grembo, no? Salve regina di misericordia, madre gloriosa di Cristo, conforto dei penitenti e speranza dei miseri. Ha dei termini, no? Quando una persona riceve la grazia grande, io sinceramente lo auguro a tutti gli ascoltatori, io auguro a tutti gli ascoltatori di poter vivere quell'esperienza meravigliosa che è la contrizione del cuore, proprio profonda, che è il guardare proprio i nostri peccati e sentirne un dolore immenso, ma un dolore immenso e pacifico però, cioè il dolore, la contrizione è un'esperienza meravigliosa, perché si soffre immensamente, ma è una sofferenza che è quasi bella, che è quasi dolce, appunto perché è mossa dalla carità. E si può sentire questo profondo pentimento sia per i peccati commessi, cioè per quelle volte in cui la nostra volontà, come dire, con piena avvertenza e deliberato consenso, si è allontanata da Dio e sapeva che non doveva farlo. E a mio avviso è cosa molto salutare anche, versare qualche lacrima di pentimento anche per gli errori, non per i peccati. Sono due cose distinte, più passano gli anni e più ho imparato a distinguere queste cose. L'errore è quando tu hai fatto una stupidaggine, ma non ne eri consapevole o non ne eri del tutto consapevole o peggio, addirittura pensavi di aver fatto bene e fatto male. Io auguro anche, non è che sono cattivo, a molti di poter rendersi conto di queste cose, perché a mio avviso non c'è essere umano, eccettuata la Madonna che non abbia peccati di cui pentirsi e errori da individuare e di cui doversi. Quando questa esperienza viene veramente fatta nasce tra l'altro nel cuore quella, mi avviso, con l'umiltà profonda, anche quella grande cautela e anche quella grande misericordia verso il prossimo che deriva dall'aver preso coscienza della nostra umana fragilità e miseria. Ed ecco, conforto dei benedenti e speranza dei miseri. Tutti gli esseri umani proprio qui si può essere apodittici, quindi utilizzare il Tutti gli esseri umani sono miseri. Tutti. Dal Papa fino all'ultimo è più misero e apparentemente è privo di di rilevanza o di rinomanza e membro della razza umana. Questa è la nostra comune eredità. Siamo miseri. Attenzione! Il misero il miserabile gli esempi di prima il criminale impenitente per esempio non sa di esserlo. Ecco perché la speranza dei miseri perché il penitente ha già fatto tutto c'ha solo bisogno di conforto d'accordo? E la Madonna conforta il penitente solo bisogna dire sta tranquillo il Signore ti perdona non dubitare di questo qui dopo che hai preso coscienza il misero non è cosciente d'accordo? Sta in uno stato di miseria ma magari pensa pure che sta bene pensa che non aveva c'è bisogno di nessuno ecco di questi la Madonna è la speranza la speranza la speranza che cosa significa? Si spera che cambino si sperano che prendano coscienza si spera che si svegliano dal letargo d'accordo? Quante situazioni noi conosciamo magari tra i nostri familiari tra i nostri colleghi tra i nostri amici insomma di persone che noi vediamo proprio camminare con una vita chiamiamola senza Dio insomma lontana da tante cose e andare verso lo sfracellarcimento sicuro magari vorremmo farci qualcosa e non sappiamo neanche che cosa farci no? Cioè la speranza dei miseri comincia a pregare un bel po' di rosari per la conversione di quella persona no? ecco questa è la scelta e le leggiamo entrambe per entrare un po' meglio dentro il cuore di Maria Santissima no? La prima dice Dio di bontà infinita concedi ai tuoi fedeli per intercessione della Beata Vergine Maria Madre di misericordia di sperimentare sulla terra la tua clemenza e di contemplare la tua gloria nel cielo ecco Madre di misericordia la sua intercessione che ci conceda di poter attenzione sperimentare sulla terra la tua clemenza allora c'è la preghiera ocaristica numero uno che chiama Dio Padre bellissima espressione Padre Clementissimo Padre Clementissimo la clemenza tecnicamente parlando se uno legge gli scritti di San Tommaso d'Aquino e tutta quanta la sua disanima disamina delle virtù morali vedrà che la clemenza è quella particolare virtù che comporta una inflizione di un castigo di una pena largamente inferiori rispetto a quelli che qualcuno si meriterebbe d'accordo un giudice è clemente quando quando nel codice penale se uno lo guarda così almeno era ai tempi che ho studiato io ma credo sia anche così no sotto ogni reato ci sono le cosiddette pene edittali cioè c'è il minimo e il massimo per esempio mi ricordo l'omicidio colposo ci aveva come penedittale quando ho studiato io quindi non potremmo assolutamente adesso andare a tra uno e cinque anni di reclusione un giudice clementissimo chi è? chi dà un anno di reclusione anziché cinque d'accordo allora vedete che un sacco di gente se la prende tanto con il nostro signore e col padre eterno no? ma la clemenza di Dio è veramente infinita perché se non fosse clementissimo e se non ricevesse l'intercessione continua della madre di misericordia sempre a dire aspetta signore aspetta dai tempo abbi pazienza ci penso io ai tuoi figli mandami da questa parte mandami dall'altra gliele dico io le cose gliele dico con amore poi vedrai se il nostro signore come dice la scrittura ci trattasse secondo i nostri peccati ma che fine faremo se consideri le colpe il signore dice quel bellissimo salmo ma signore ma chi potrà sussistere e gli farei con un altro passo della liturgia delle ore non ci tratta secondo i nostri peccati non ci ripaga secondo le nostre colpe ecco perché noi dobbiamo imparare dalla clemenza di Dio e dalla clemenza e dalla misericordia di Maria di essere buoni cauti ecco c'è uno spirito vendicativo uno spirito giustiziere questa è un'opinione mia personale insomma non la si prende insomma come oro colato ma per la percezione che ho io del messaggio evangelico e anche come dire un po' della spiritualità del cuore e del cuore della Madonna non mi sembra ecco proprio il top è umanamente comprensibile in certe circostanze ma non è molto cristianamente declinabile ecco o molto marianamente declinabile quindi è importante che noi sperimentiamo sulla terra la clemenza del padre e sperimentarla sulla terra sapete quando succede ecco esattamente quando si fanno le esperienze che facciamo come quelle che abbiamo fatto prima come quelle di cui ho detto prima quando una persona a un certo punto si accorge dei peccati che ha commesso e li riconosce come tali e si accorge anche degli errori che ha commesso e li riconosce come tali e vede che il nostro signore ci ha avuto pazienza non ti ha fulminato non ti ha scomunicato non ti ha respinto ecco e presenza ma ti ha pazientemente atteso ecco trattandoti non con rigore ma con clemenza l'altra orazione dice così tendi l'orecchio della tua pietà o padre ai tuoi figli che gemono sotto il peso della colpa li accolga sulla via del ritorno l'amore senza limiti che ti spinse a mandare il figlio come salvatore e a donarci Maria come regina di misericordia altra preghiera bellissima purtroppo quando facciamo queste preghiere durante la santa messa la preghiera dura un attimo magari sto pure un po' distratto e non e neanche me la me la gustano perché nella liturgia la chiesa celebra quindi non è che il prete si può fermare dopo la colletta e dire come sto dicendo io adesso no però questa preghiera è una preghiera bellissima tendi l'orecchio della tua pietà o padre questa immagine certamente antropomorfica no ma molto bella la pietà la pietà che è una cosa proprio la la pietà cioè generalmente quando si vede una persona spietata è una delle cose più brutte che possa succedere insomma è proprio brutta oggi il 21 di gennaio è la festa di Sant'Agnese no c'era una bellissima lettura di Sant'Ambrogio stamattina nell'ufficio delle letture ma come si fa a infierire su una bambina di 12 anni a farle del male io sinceramente per come ho fatto alla testa mia io non sarei proprio buono cioè ma non è virtù di ci sai tu sei virtuoso io non sarei proprio capace a fare del male gratuito insomma o o non avere pietà no cioè un cuore molto molto mariano un cuore molto materno ma anche un cuore molto divino perché chi è il padre della pietà è Dio la sua pietà lo ha spinto cioè tu dici Gesù è l'immagine della misericordia sì ma il figlio è stato mandato sulla terra dal padre abbiamo la madonna che è madre della misericordia sì sì ma maria madre di misericordia è un dono del padre capite c'è anche un pochino facciamo attenzione che c'è un po' purtroppo noi a volte per esigenze di farci comprendere dobbiamo utilizzare un linguaggio ma è un linguaggio sempre molto limitato c'è a volte come dire una una visione non corretta d'accordo che sembra che il padre è la giustizia inflessibile il figlio cerca in qualche modo di metterci qualche pezza e la madonna qualcun'altra ma non è così d'accordo ecco il padre è clementissimo il padre è buonissimo il padre è l'origine della pietà e della misericordia capite cioè come si vede la madonna come madre appunto di misericordia sarebbe molto molto proficuo insomma adesso chiaramente questa non è la sede non stiamo parlando di questo in questo ciclo di catechesi però riflettere un po' sul su Dio come padre Papa Francesco sta facendo le catechesi sul sul padre nostro per due mercoledì di seguito come colui di cui porta il nome insomma che era San Francesco che ci posta una notte intera ha cercato di riflettere sul titolo padre ma noi siamo sicuri che ci abbiamo anche nei confronti di Dio un rapporto da figlio da figlio a padre il padre è comunque il padre un padre cioè Dio è un padre buono proviamo ad immaginare proprio l'immagine di un padre buono che fa il padre ma che è proprio buono come dovrebbe essere insomma un padre dovrebbe essere l'immagine della della bontà certamente unita anche a ciò che il padre trasmette quindi il valore l'integrità la sicurezza la sana e santa autorità quindi l'essere un po' il punto di riferimento quindi attenzione ad avere idee un pochino distorte anche no l'orazione sulle offerte di questa splendida messa accetta signori i doni del tuo popolo e per intercessione della Vergine Maria attenzione fa che ci mostriamo misericordiosi verso i fratelli per ottenere la tua clemenza misericordiosi verso i fratelli per ottenere la tua clemenza il giudizio sarà senza misericordia su coloro che non hanno voluto usare misericordia questo è capite cioè quando noi cominciamo a fare i giustizieri della notte e a reclamare giustizia sapete che il nostro signore è sempre io l'ho chiamato recentemente insomma con un modo un pochino con un neologismo un pochino bislacco il rispettatore della nostra libertà l'unica legge che si è data è di non violare in nessun modo la libertà delle creature libere lui vuole che ci muoviamo e ci determiniamo liberamente e sta spesso e volentieri a prendere atto quindi a relazionarsi con noi in base a quello che noi gli mostriamo hai chiesto e voluto giustizia per tutti mi obblighi a chiedere giustizia anche da te se è stato largo nella misericordia verso tutti nella pratica delle opere di misericordia verso tutti quello che hai seminato raccoglierai quello che si fa si dice nel proverbio popolare si ritrova mi obblighi a largheggiare in misericordia con te perché tu hai largheggiato in misericordia col prossimo è così è contenta la madonna se noi siamo misericordiosi nei confronti del prossimo sì o no sicuramente sì fa che ci mostriamo misericordiosi verso i fratelli per ottenere la clemenza poi c'è il prefazio è veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te Padre Santo il nostro cantico di lode attenzione nell'eterno consiglio del tuo amore bellissima immagine ci hai dato nella beata Vergine Maria sentite la regina clemente esperta della tua della tua benevolenza che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a lei l'eterno consiglio del tuo amore bellissimo l'eterno consiglio del tuo amore e ci hai dato nella beata Vergine Maria la regina clemente clemente il padre clemente la madre attenzione esperta della tua benevolenza eccola quella che conosce bene cioè la Madonna è la prima dopo Dio è la prima è quella che lo conosce meglio ma se la Madonna è così buona ma può essere che Dio è cattivo tra virgolette capire nel senso cattivo non nel senso di autore di male morale ma cattivo nel senso di spietato intransigente giustiziere o la Madonna non gli assomiglia per niente oppure Dio non può essere così no accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a lei accoglienza delle anime che soffrono la madre di misericordia sempre attenta all'invocazione dei figli perché ottengono la tua indulgenza attenzione l'indulgenza è una cosa diversa e la remissione dei peccati indulgenza e remissione dei peccati sappiamo la differenza no la remissione dei peccati è che sono cancellate dalla nostra anima le colpe l'indulgenza che sono rimesse anche le pene dovute per i peccati la Madonna punta a questo la dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso tuo figlio diamo l'avvocata no interviene incessantemente presso il tuo figlio perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia cioè il povero ecco qua chi è il povero per antonomasia è il peccatore chi è il misero per antonomasia è il peccatore chi è il solo per antonomasia è il peccatore perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza sono bellissime queste parole piene veramente di conforto e di consolazione la messa conclude e concludiamo anche questa puntata troviamo anche qui due distingue ricordioso il padre vostro passo del vangelo di Luca che poi prosegue anche se non c'è nell'antifona ma l'antifona capite richiama non giudicate e non sarete giudicate non condannate e non sarete condannati perdonate e vi sarà perdonato date e vi sarà dato sto citando una buona misura pigiata scossa e traboccante vi sarà versata nel grembo perché con la misura con cui misurate sarà misurata a voi in cambio Luca 6 36 e seguenti e poi l'altra antifona è uno stralcio del magnificat grandi cose ha fatto in meno onnipotente santo è il suo nome di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono sapete la Madonna non fa riferimento alla paura di Dio ma questo è il timore riverenziale ecco la misericordia di Dio si stende su coloro che umilmente non è che hanno paura ecco di Dio ma cominciano ad avere paura di se stessi noi dobbiamo avere paura di noi stessi di andare a fare altri guai e altri danni oltre ai molti che già hanno caratterizzato la nostra vita quindi molto timore di fidenza di noi stessi e per nulla timore ecco molta confidenza e fiducia nella bontà dell'altissimo e poi c'è la relazione dopo la comunione padre buono che ci ha nutriti al banchetto eucaristico donaci di magnificare con Maria la tua bontà infinita e di godere sempre della sua protezione perché in lei c'è da una regina clemente verso i peccatori e misericordiosa verso i poveri verso i poveri anzitutto di spirito e anche verso i poveri poveri perché le opere di misericordia sono anche quelle che ci inclinano ad avere un cuore largo verso le forme di povertà e ecco donaci però di magnificare con Maria la tua bontà infinita e riconoscere che Dio è buono imparare a vedere la bontà di Dio diffusa in noi e intorno a noi io ripeto insomma lo sappiamo già sulla del buon consiglio io a livello personale insomma ho avuto un grande aiuto diciamo così dal cielo per prendere coscienza di questa straordinaria bontà di Dio e grazie agli iscritti sulla divina volontà della serva di Dio Guisa Piccarreta perché ti fanno veramente comprendere come tutto quello che Dio fa ha fatto e opera incessantemente per noi è un interrotto canto d'amore che noi però non sappiamo riconoscere non sappiamo neanche andarlo a prendere non sappiamo accoglierlo non sappiamo ricambiarlo e da questo dipende tutta la causa prima della nostra infelicità terrena con cui ci avveleniamo la vita e l'avveleniamo spesso e volentieri ahimè anche al prossimo ecco la prossima volta a Dio piacendo proviamo insomma a concludere e andare verso la conclusione di questo tema io volevo fare riferimento almeno una puntata alle apparizioni di Amsterdam prima leggerò ecco quello che ha definito quello che ha sancito il vescovo di Harlem perché questa è un'apparizione che è stata dal vescovo diocesano riconosciuta e poi leggere qualche sprazzo perché in queste apparizioni la Madonna ha intervenuto sul tema che abbiamo trattato nel senso che ha proprio chiesto ai teologi e alla Chiesa di approfondire e studiare bene i titoli di corredentrice mediatrice avvocata dicendo anche lei a sua volta qualcosa e auspicando anzi un po' più che auspicando insomma proprio chiedendo che la Chiesa si muova verso la programmazione di questo quinto e come la stessa ci dirà ultimo Dogma Mariano ce ne sono cinque d'accordo non ce ne sono di più cinque come le piaghe di Gesù e cinque come secondo la tradizione le gocce di sangue da cui è stata formata nel grembo di Maria l'umanità santissima di Gesù ecco ci manca ancora questa corona che certamente questo l'ho già detto insomma è solo questione di tempo ma a mio avviso nella Chiesa Cattolica ci sarà ci sentiamo alla prossima grazie a tutti grazie a tutti